Allora, prima di passare alle texture e vedere come usarle in Blender, volevo fare questa piccola introduzione su come rintracciare delle texture su internet o comunque in qualche modo produrle. Allora, uno dei modi un po' più dedicati, se si esclude quello più semplice, cercare semplicemente Wood Texture, quindi se voi cercate Wood Texture, Wood vuol dire legno, quindi se noi cerchiamo delle texture di legno, cerchiamo preferibilmente in inglese perché troviamo molte più cose. Proviamo a cercare anche Row, che vuol dire legno grezzo, e quindi vediamo che noi abbiamo un bel po' di texture da cui partire. Queste texture di questo tipo sono già molto interessanti perché possiamo usarle. Un trucco che a volte è utile fare è di cercare delle texture che siano Tealable. Tealable vuol dire che le potete mettere fondamentalmente una insieme alle altre, quindi una attaccata all'altra senza creare dei problemi. Non tutte le immagini che vedete Tealable lo sono realmente. Dovete verificare. Ecco, le Tealable si chiamano anche Seamless e cercandole con questo sistema l'unico problema è che si trovano spesso delle immagini che sono in realtà a pagamento. Per esempio andiamo qua e vedete che abbiamo delle texture, sì, ma molto spesso cliccando si arriva, in questo caso addirittura non si arriva da nessuna parte, ma a volte si arriva su siti che chiedono di scaricare con dei soldi. In realtà, se vogliamo essere un pochino più mirati, io ho notato che su Pinterest ci sono molte persone che pubblicano delle texture interessanti, basta cercare Wood oppure come abbiamo visto prima Raw Wood e magari Texture e magari ancora Seamless e si arrivano a qualche cosa anche qua che potrebbe essere interessante. Quindi per dire questa potrebbe essere buona. Se ci piace la texture, la possiamo... Ecco, qui ci sono diverse texture di legno. Ora, concentriamoci su... Proviamo a prenderne una in particolare. No, questa è ceramica. Ma noi cerchiamo... Ecco, per esempio questo... Vediamo un po' qua. Ah no, vedete, queste le vendono e sono già interessanti. Però, supponiamo, vedete che spesso per evitare che la gente le prenda, gli mettono questa retinatura e che rende, diciamo, l'immagine non utilizzabile. Lo fanno deliberatamente. Quindi lo trovate nell'immagine prive di retinatura, quindi riuscite a ritracciarla. Oppure, ancora meglio, l'altra possibilità che forse è un pochino più applicabile è quella di andare in questo sito che si chiama www.textures.com quindi questo rende disponibile delle immagini utilizzabili soprattutto per uso personale e bisogna registrarsi e una volta registrato dar la possibilità di scaricare fino a 15 immagini, texture, per giorno. Se invece chi ovviamente lo fa per lavoro probabilmente ne ha bisogno di più e allora chiedono di iscriversi, di pagare. Ma per i fini obbistici sui quali stiamo parlando in questo momento va benissimo poterne scaricare, diciamo, una quindicina. Noi probabilmente ne useremo anche meno. Quindi qui cerchiamo raw wood ed ecco che vediamo che abbiamo delle belle cose. Per esempio questo qui è un legno. diciamo che cerchiamo delle texture quanto più possibile complete di questo tipo, ad esempio, va bene. Proviamo a prenderne una e vedete che ci danno delle risoluzioni piccole o medie e per i nostri fini va benissimo anche la small che costa un credito. Ok? E quindi questa immagine ce la scarichiamo e se la ingrandiamo vediamo che abbiamo questa texture fatta così. Ok? Quindi potrebbe essere un inizio insomma per lavorarci sopra. Scopo di questo video era soltanto dirvi come scaricarle non utilizzarle questo lo vedremo eventualmente in un altro video. Quindi abbiamo delle texture di questo tipo una cosa interessante che potrebbe essere necessario fare è di creare o di trovare delle normal map o delle specular map. Noi lo faremo partendo dalle texture che abbiamo scaricato nel senso che andiamo abbiamo questo sito che si chiama va beh questo texture generator ma serve a pochino ma soprattutto questo normal map che permette di passare da una texture che abbiamo appena scaricato quindi noi adesso abbiamo scaricato una texture poco fa che si chiamava così texture com e la mettiamo dentro questo normal map questo sito ve lo dico così per semplicità genera tutta una serie di immagini che sono normal displacement ambient occlusion e specular di cui per noi le più interessanti sono la normal e la specular sono sfruttabili vedete che generano di fatto delle cose abbastanza interessanti non è comunque il modo professionale di generare le normal map il modo più professionale è proprio quello di in qualche modo di fotografare le normal map o di produrle in maniera programmatica qui c'è anche da questo sito si può anche fare nel senso che si può fotografare la stessa scena con la luce che viene da sinistra dall'alto da destra e dal basso ma diciamo è già abbastanza complesso comunque i fini obbistici per i quali noi ci interessiamo scarichiamo semplicemente il dunque andiamo e prendiamo texos.com la aspetta si dovrebbe bastare il drag and drop quindi lo droppiamo qua e vedete che abbiamo messo una no texture che è il nostro diciamo legno qui ci fa vedere la resa di questo legno sul cubo vedete che adesso è esagerata ci fa vedere un po' il normal map eccetera quindi noi per riuscire ad avere a capire quando e come è giusto quindi andiamo sulla normal e diciamo soprattutto cerchiamo di ridurre un po' la normal map in modo tale che sia credibile quindi vedete che la normal map è quella che aumenta i rilievi e ci va bene no? quindi questo più o meno ci fa vedere gli effetti della normal map possiamo vedere un po' meglio applicando anche qua il dunque andiamo ok prendiamo questo text vedete che qua ci fa vedere un po' il legno un pochino meglio ecco vedete che qui lo spessore cioè la normal map riducendolo un po' diciamo dovrebbe funzionare abbastanza quello che vedete che è un po' stone è la specular map a parte che poi anche la normal map mettiamo a posto un po' la specular map la specular map indica quanto riflette vedete che adesso come legno riflette un pochino troppo e quindi bisogna ridurre la riflessione e riducendo la riflessione si è un pochino più credibili perché così riflette troppo quindi sembra metallico togliendo tutta la riflessione rimane un pochino troppo piatto però se gli mettiamo un pochino di riflessione tipo qua abbiamo una cosa un pochino più credibile cioè il legno un pochino lucido poi si può lavorare anche con questi altri parametri per ottenere degli effetti diversi ok come si fa poi a scaricare i vari pezzi basta e per la normal map la prendiamo da qua vedete che qui possiamo ridurre la normal map o ingrandirla leggermente quindi facciamo poi possiamo renderla più o meno spigolosa è così molto spigolosa e così un po' di meno ok ok prendiamola un po' così ad esempio supponendo che questa sia la nostra normal map possiamo scaricare la normal map e la scarichiamo e quindi la chiamiamo con il nome quindi per esempio questo qui cerchiamo di chiamarla con lo stesso nome della texture di partenza vabbè comunque adesso la chiamiamola row wood punto png ce la salviamo anzi forse conviene chiamarla proprio con normal map quindi chiamiamo row wood e poi normal map ok quindi sappiamo che è la normal map associata al legno e prendiamo anche la speculare questa e la chiamiamo anche qui row wood speculare ok quindi a questo punto direi che vi ho insegnato a produrre a rintracciare su internet delle immagini di legno ed eventualmente costruire partendo dalle immagini rintracciate su internet delle normal map e della specular map